Una storia di violenze che si è consumata all'interno delle mura domestiche. A finire in manette una 29enne che ha aggredito violentemente la mamma ed il papà. Ha colpito la donna con un pugno e l'ha trascinata per i capelli. Poi si è accanita verso il padre che stava cercando di aiutare la moglie con calci e pugni fino a rompergli il cellulare in testa. A dare l'allarme ai vicini di casa che hanno sentito le urla provenire dall'appartamento accanto, sul posto due volanti della polizia. L'arresto è stato convalidato nel corso del processo per direttissima. Non solo, ma la donna non potrà avvicinarsi ai genitori a meno di 500 metri. Non era la prima volta. I maltrattamenti andavano avanti dalla scorsa primavera. Tutto è accaduto in una casa Santa Maria del Rovere, amareggiato Don Adelino Bortoluzzi, parroco in questo quartiere di Treviso. Questi fatti in genere sono fatti dove si sperimentano sofferenze e solitudini estreme che hanno bisogno della solidarietà. Mi dispiace di non averla data a questa famiglia, ma mi dispiace anche di essere dentro una comunità dove in genere ognuno pensa ai fatti suoi. E quando si sentono queste sofferenze, le persone dicono, beh, sono fatti loro, non sono fatti che interessano a me. La solidarietà è fondamentale, spiega, per non far sentire sole le persone che si trovano in difficoltà. Non ci si può girare dall'altra parte. Bisogna far di tutto perché ci siano delle strutture dove le famiglie, quando hanno bisogno, possano chiedere aiuto. Secondo, io farò di tutto e mi sforzo, come ho sempre fatto, a fare in modo che le famiglie parlino tra di loro e non abbiano paura di raccontarsi delle loro fragilità. I genitori della donna sono stati portati in ospedale per essere medicati, ma la ferita più profonda è quella di aver visto la propria figlia alzare le mani su loro, senza pietà.